Sono 13 gli imputati che nel corso dell'udienza preliminare davanti al GUP di Reggio Calabria hanno scelto il rito abbreviato nell'ambito dell'inchiesta tipografic. Si tratta di Nicola Agostino, Salvatore Agostino, Rocco Attacchi, Domenico Calauti, Francesco Caruso, Caterina Cherubino, Antonio Fimia, Antonio Malfone e ancora Roberto Prologo, Nicola Schirripa, Giuliana Zavaglia, Nicola e Rocco Prota. Gli indagati sono comparsi davanti al GUP di Reggio Calabria e all'accusa. La maggior parte degli imputati aveva richiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato condizionato. Le richieste però sono state tutte rigettate, ammesse invece quelle di Costituzione di parte civile del testimone di giustizia Nicodemo Panetta. Ammesse anche la Costituzione di parte civile della Fondazione Antiusura Nazionale Interesse Uomo, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni di Giosa Ionica e Reggio. Gli abbreviati saranno trattati dall'8 maggio in poi dinnanzi al GUP distrettuale di Reggio Calabria. L'operazione tipografica, lo ricordiamo, ha portato all'esecuzione di un decreto di fermo a carico di 34 persone, nonché a perquisizioni nei confronti di 52 indagati. L'indagine prende le mossa dalla denuncia di un imprenditore operante nel settore tipografico, ora residente insieme al suo nucleo familiare, in una località protetta, il quale ha delineato una complessa attività di usura posta in essere ai suoi danni da soggetti contigui alle cosche d'Indrangheta.